Benvenuto in studio a Gianrico Carofiglio, dicevamo ripartiamo da questa fotografia dell'Italia ma mi ha colpito una sua intervista, l'ho letto da qualche parte, in cui lei definisce un grande filosofo Mike Tyson che una volta disse chiunque ha un piano finché non riceve un pugno in faccia l'ho trovato veramente, eccolo qua, l'abbiamo messo anche in grafica, il filosofo Mike Tyson Tutti hanno un piano, sì, tutti hanno un piano Qual è il suo pugno in faccia? Voi arriviamo all'Italia Ma ne ho presi continuamente la questione del pugno in faccia che è una efficace, un po' brutale metafora considerato il personaggio e che i piani troppo circostanziati si scontrano con la complessità del mondo che non siamo capaci di governare c'è quella storiella idish che dice se vuoi fare ridere Dio raccontagli i tuoi progetti E l'idea di fondo è che un approccio sano, corretto e efficace verso il mondo implica certo fare anche dei progetti nella consapevolezza che devi essere pronto a cambiare quei progetti quando le circostanze cambiano cioè quando arriva o sta arrivando il famigerato pugno in faccia che significa senso del limite, significa capacità di ammettere i propri errori doti tutte di cui molti, diciamo, personaggi sono piuttosto sprovvisti Questo ci aiuta in realtà, questa splendida metafora, ad arrivare, come dire, all'Italia vi voglio far vedere